Benvenuti a un nuovo video di Ufemme Estetica. Oggi faremo il semi permanente Galaxy che cambia colore a seconda della temperatura della mano. Se è ghiaccia diventa così, quindi in termini se è calda diventa l'albata che vi farò vedere. Come primo step utilizziamo il primer su tutte le unghie. Una volta asciutto all'aria utilizzeremo la base, io uso la base Mesauda Milano Gel Publish, sia base che top. Mettiamo un piccolo strato sulle unghie. Una volta asciutto all'aria utilizzato, io uso il Mesauda Milano Gel Publish Termocolor numero 503, che al freddo diventa cobaldo e al caldo diventa white. Adesso inculiamo il secondo stato di colore. Grazie per la visione! Una volta catalizzato anche il secondo strato, adesso prendiamo un piccolo pezzo di carta stagnola. Prendiamo il colore, io uso Magic Polish Night to Night numero 32, cioè il nero. Mettiamo il colore sulla carta stagnola. Dopodiché prendiamo dei glitter, io uso B-Train de Las Vegas numero 14. Lo mettiamo in lato. Dopodiché io utilizzo un vassocino arancio e mescolo i due colori. Ho preso il pezzettino di spugna, tamponiamo, prendiamo un po' di colore, togliamo l'eccesso e tamponiamo. Prendiamo il colore. 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 come passo finale prendiamo lo spazzato in un pad sgrassiamo bene le unghie questo è l'effetto finale effetto galaxy con il coloro di cobalto perché con le mani fredde se vado ad utilizzare l'acqua calda si sborba e diventa così questa è la più fredde comunque questo è l'effetto se vi è piaciuto il video lasciate un bel like iscrivetevi al canale e alla prossima grazie a tutti